Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su IndieGameplayIt e oggi siamo su un gioco che Indie non è ma su cui voglio fare un piccolo ragionamento e soprattutto andare a provare alcune cose insieme io avevo acquistato questo gioco all'uscita mi aveva annoiato moltissimo l'avevo abbandonato subito e ci avevo speso anche 60€ quindi Fallout 76 adesso è in ato anche su Steam lo hanno migliorato tanto e prima non aveva gli NPC ora li ha ora la mia domanda prima di iniziare questo piccolo gameplay è questa abbiamo visto le live che ho fatto e anche che ha fatto Mirko su The Elder Scrolls Online quindi tutto il lore di The Elder Scrolls e ci siamo sempre lamentati del fatto che fosse solo in inglese la mia domanda è questa e se questo Fallout fosse una sorta di The Elder Scrolls Online seppur con notevole differenze perché non è massivo non ha tutta la profondità della lore di The Elder Scrolls ma calcolando che è in italiano ha un botto di quest da fare non è che forse forse ci stiamo un pochino lamentando quando sotto gli occhi abbiamo già qualcosa di godibile ora adesso scusatemi sto mangiando perché ho tutto maccio quindi insomma dovrò mangiare qualcosina ok perché diciamo che ci ho giochichiato un pochino da solo e credo sia un gioco che si presti meglio al gioco da solo per quanto sia incredibile il fatto che si possa giocare in cooperativa con altra gente abbiamo visto che c'erano dei problemi quando abbiamo giocato sulla live con Mirko se l'avete vista però da solo ci sono scelte multiple mi godo il tutto ma il bello del multiplayer qui è che se io mi faccio un bel accampamento altra gente lo vede se io ho un'armatura fighissima che ho trovato le altre persone che vediamo qui la vedono quindi possiamo pavoneggiarci che alla fine è quello che ci spinge in ogni gioco a prendere armature megagalattiche ora la missione è questa ci sono dei dei tizi di una banda che danno fastidio e quindi dobbiamo uccidere nel capo tuttavia ci è stato detto che nelle vicinanze c'era una famiglia che ci viveva e stiamo andando a vedere a informarci presso di loro se hanno qualcosa del capo perché questa missione ha diversi epiloghi tra cui anche il convincere questo capo senza doverlo uccidere a lasciare in pace questa zona ora ho temporeggiato per fare questo video a fare questa missione ora andiamo a interrogare questa famiglia che ha avuto diciamo la sfortuna di avere questi vicini un po' scomodi ora andiamo a vedere vediamo che cosa è successo mi ha incuriosito anche il fatto che tanti l'hanno dichiarata questo gioco molto più bello di Fallout 4 a me Fallout 4 è piaciuto quindi scusi lei lui è un colono quindi non ha un nome quindi credo sia una persona normalissima lui è Daniel scusi è doppiato in italiano c'è chi cosa vuoi di più ho sentito che ho avuto a che fare con i tipi della società di legname della Virginia Occidentale qua non posso usare niente di questo so che non sono affari tu niente purtroppo il tesoro solo e soltanto guai stai provando a liberarti di me provando a dirti che non dovresti essere qui no niente non posso fare questa cosa vabbè pazienza poi tra le mille cose da fare insomma ci sono una quantità assurda di quest ed è assolutamente incredibile quanto la betesta per questo titolo perlomeno abbia deciso di investire anche in Italia con il doppiaggio di tutti i nuovi NPC oltre che degli holonastri già esistenti è un gioco che sicuramente offre tante cose perché c'è anche la possibilità di costruire l'accampamento con le fonti di energia insomma la produzione personale magari di tipo queste di acqua di difese di modificare costruzione di armi quindi in pratica adesso ci stiamo vivendo una missione completamente da soli senza amici senza corse perché si sa che poi spesso giocando con amici c'è chi corre c'è chi va a curiosare in giro chi luta tutto anche se i luts sono separati però c'è sempre gente che si perde via che non c'ha voglia di leggere qua ve lo godete tranquillamente l'ambientazione è bella mi sarebbe piaciuto dire la verità anche avere un doppiaggio e una lingua italiana anche per quanto riguarda l'altro gioco The Elder Scrolls Online calcolando che sono un fan della serie The Elder Scrolls da Morrowind Oblivion e Skyrim ho provato anche un pochino Darkerfall ma ora qua siamo in un brand completamente diverso quindi vediamo vediamo un attimino come va a cambiare calcolate che avete la fame la sete le radiazioni da curare il mondo è grande e gli sviluppatori io credo adesso che il gioco sta ricevendo comunque anche diverse lodi o comunque dei voti positivi decidano di portare avanti infatti leggevo che già pensavano di espandere il mondo di gioco mondo di gioco che comunque è grande nonostante la mappa magari possa sembrare piccola è grande è grande calcolando che da qua a qua anche solo da qua a qua prima di fare il video ho dovuto fare un bel giro schivare dei nemici anche se è una zona anche abbastanza iniziale ora andiamo i nemici credo si livellino in automatico a noi quindi stiamo andando verso la ruota panoramica o almeno così mi mostra perché dobbiamo parlare con questo riciclatore e scoprire altre informazioni una cosa dei Elder Scrolls Online che mi aveva stupito è che una semplice questa secondaria diventava veramente lunga anche un'ora un'ora e mezza con tutti i risvolti vediamo se qua è più o meno la stessa cosa lei? ah ok 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 devo oh mamma mia ok ma devo cercare informazioni sulla banda nella fattoria no parlare con il riciclatore ma dove cacchio è il riciclatore ora prendo F vado su lo steam pack così mi curo ma dove cacchio è sto riciclatore 33 metri ah deve essere lì ok vediamo se mi ero in testa e lo uccido subito ok prendo la pistola ok dovrebbe essere lì vediamo se ok scusi perdoni ok ma dove cacchio è sto tizio perché qua mi sto facendo spazio ma ah qua si sale vai lì scusi interagisci vattene via non sei uno di loro sei qui per derubarmi caschi male non ho niente ho sentito che ti vantavi di poter cacciare i vieti dalla società di legname delle virgine ah hai parlato con quello eh beh diciamo che ho il mio asso nella manica volendo avrei potuto uccidermi ma farlo per niente non mi va voglio qualcosa non ho forza ho toto devo capire come ho potenziale da cosa che sto facendo io non voglio avere niente a che fare vedi un po' tu insomma cosa che mi dai l'ho rubato quando sono scappato dal laboratorio permette al corpo di visitare il piano astrale ti rende quasi invisibile e allo stesso tempo ti permette ah interessante ti rende invisibile non agile e da quando sono scappato non corro più molto bene ma scommetto che decidi ok quindi a questo punto noi abbiamo avevamo diverse possibilità per completare questa quest e aspetta anche faccio quello che devo fare ok allora dovevamo andare nella mappa qua uccidere il capo parlare con i tizi qui che purtroppo non ho le abilità per poterlo fare andare da sto tizio qui convincerlo a darci a sapere come mai come affronta lui l'oro e ha detto che ha quest'arma quest'arma qui che ci rende invisibili ce la potremmo far dare se avevamo 8 o più forza ma in realtà non ce l'abbiamo quindi dobbiamo andare su quest'isola a fare il compito per lui e recuperare un uovo da chissà chi ora io volevo anche dare un'occhiatina al menu perché no vorrei andare a vedere le mie statistiche spostare il camp vedete posso vederlo così o vederlo con il pit boy che però è scomodo alla fine ok posso aumentare di livello allora è raggiunto livello 5 combattimento con altri del locatore abilitato ma questo non mi interessa talenti hai un pacchetto talenti da aprire si che ci dai perk allora gli steam pack vediamo un po' vedete che ogni carta va ad aumentare una delle abilità quindi tab vorrei aumentare il carisma allora quando sei in squadra no in un accampamento in un'officina alla squadra mentofamedo no non mi interessa forza l'armida mischia no il peso delle sostanze no facciamo perception lo spavro mirare agli arti no vedete ce n'è un botto di roba intelligenza gli steam pack questo mi interessa accetto a livello 1 ci fa questo poi più 30 più 45 accetto quindi dovrei equipaggiare la carta adesso ok usa due carte per creare una carta di grado più alto se ne abbiamo due possiamo farlo ok bene una volta ogni 20 secondi uso automaticamente uno steam pack accetto anche questo posso prendere se non sbaglio una carta per fortuna trovare sostanza extra ok quando la tua salute è inferiore al 30% hai il 15% di non subire danni accetto ok quindi mettiamo fortuna sfacciata posso devo ancora capire bene come funziona perché questa non mi interessa punti non in uso una ok ok poi andiamo a mettere carisma ho un punto non in uso questa ok poi no continuo a uscire per sbaglio allora intelligenza e direi che uso questa poi agilità usiamo questa usiamo lo steam pack in automatico poi sulla forza non ho carte sulla perception posso 40% di trovare carne extra va bene e poi sulla fortuna prendo quella carta che ho sbloccato perfetto e così abbiamo potenziato il nostro personal dream come direbbe Mirko ora abbiamo una parte di noi che deve essere curata perché vedete che in basso a sinistra la barra della vita è metà gialla e metà rossa poi veramente mi fa impazzire si può prendere qualsiasi cosa andare dentro a vedere interagire con la radio accenderla vedere nei vari oggetti che cosa troviamo ma rivendica l'officina ok intanto non so bene che cacchio sia successo ma dovrebbe essersi iscritto qualcuno a twitch tanto va bene allora tu sai come direbbe falconero allora rivendica l'officina ma mi è partita una missione e adesso capisco quando dicono che veramente ci sono troppe cose da fare talmente tanto che si perde il filo perché dietro ogni angolo si nasconde uno a questo ora voglio andare a recuperare l'uovo è fighissimo perché veramente è una storia che si racconta di continuo con un sacco di cose da fare con la classica classico lato tecnico di fallout ovviamente potrete entrare nelle armature atomiche costruire bene una sbloccare le cose ed essendo comunque una componente multiplayer ci sono sempre nuove aggiunte cosa che non sempre capita nei giochi single player ma soprattutto vi poneggiate con gli altri ma calcolate che appunto questa competitività con gli altri dell'equipaggiamento vi porta ad avere sempre un qualcosina in più da scoprire da trovare da craftare in più degli altri e questo è una cosa che mi piace moltissimo in era post atomica meglio non andare nell'acqua comunque intanto devo recuperare l'uovo e voglio capire qual è il problema ma l'uovo è qui silenzio allora che cacchio succede silenzio dov'è l'uovo uovo di deathclaw l'ho preso e me ne andrei perché deathclaw non mi fa ben sperare devo riportarglielo no? si consegna l'uovo ok l'uovo l'ho preso deathclaw sembra che io ricordi sono dei mostri anche abbastanza grossi quindi qua è la cosa da rivendicare chi è? ah ok ok infatti adesso l'ho fatto in modo frenetico ma c'è quella sorta di mira automatica tipica di tutti i fallout ovviamente in versione temporale però l'ho attivata e ci usa i punti azione che abbiamo in basso a destra e ovviamente se non abbiamo punti azione non possiamo usare famigerato spav e anche lì ho dei limiti vedete la barra rossa alla fine tra l'altro correndo i punti A PA punti azione che si chiamano diminuiscono quindi bisogna adesso rientrare sperando che non ci siano i goal che poi ho detto che ha più lore forse del deathclaws ma perché ha più espansioni sulle spalle ma e più giochi ma in realtà non scherza nemmeno questo perché i goal hanno una storia insomma chi ha vissuto ha giocato almeno io ho giocato fino a metà il 3 ho finito il 4 di fallout ma si sa che cos'è Megaton si sa che cosa si poteva fare con Megaton quindi non è un brand non è un titolo che nasce con una storia così allora andrò su qua se capissi se mi ricordassi come si sale ah da lì ok vediamo se adesso mi da questo dispositivo fighissimo o mi sta perculando salve ne ho uno tieni stealth boy ho attivato ho sbloccato uno stealth boy che dovrebbe rendermi invisibile per qualche istante ne ho presi 3 quindi alla fine posso uccidere il capo della banda oppure convincere il capo della banda a lasciarli in pace posso cercare nella fattoria informazioni sulla banda quindi sempre all'interno della fattoria io esploro e scopro informazioni tutto all'interno di questo peccato che qua vedete quest che è andata così perché non avevo le abilità in grado di farmi spiegare da loro informazioni in più sulla banda poteva andare in mille modi diversi è andata così quindi ragazzi questo voleva essere un video un pochino così di approfondimento di un piccolo pensiero mio su quello che è Fallout su quello che è The Elder Scrolls Online del fatto che comunque rimpiangiamo l'assenza dell'italiano ma forse un gioco simile lo abbiamo qui anche se è un po' diverso ma in questo caso Bethesda ci ha dato un gioco con sottotitoli in italiano doppiaggio in italiano gli ha fatto un lifestyle e ha mantenuto i sottotitoli e soprattutto il doppiaggio che è cosa che secondo me è incredibile il fatto che abbiano aggiunto gli NPC e li abbiano doppiati tutti ancora in italiano quando probabilmente per loro non ne sarebbe valsa la pena quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco della mia riflessione insomma vi dico siamo qua tutti a lamentarci poi in realtà spariamo addosso a quello che è un gioco che invece ci dovrebbe venire incontro oddio ok siamo i più veloci del west qua ma scusate prima di chiudere va bene non mi ha fatto mirare la testa perché probabilmente ho bisogno di potenziamenti bene ragazzi fatemi sapere un commento qua sotto e alla prossima e ciao ciao grazie a tutti